buongiorno sono raffaele bianchi sales manager icom technology icom distributore a valore aggiunto di soluzioni in ambito sicurezza e video sorveglianza ict e telecomunicazioni icom è tra le aziende principali in europa che vanta la distribuzione all'interno del proprio ecosistema di brand come motorola solutions e da vigilo il nostro fiore all'occhiello per le soluzioni di video sorveglianza avigilon ed icom technology presentano una suite di tecnologie end to end perfettamente integrate che reinventano il concetto stesso di sicurezza all'interno di luoghi ed eventi questo per coprire in modo efficace ogni esigenza di monitoraggio informazione e comunicazione sia degli operatori che del pubblico telecamere di video sorveglianza e bodycam comunicano con device push to talk over cellular smartphone radio device iot e interfoni intelligenti il tutto tramite semplici app cloud e video analytics viaggiando in wireless tutti i dati convergono al centro di controllo e anche un solo operatore con un semplice browser può gestire qualsiasi criticità in modo tempestivo coordinando l'intero staff una soluzione icom technology sviluppata in collaborazione con avigilon che risponde alle richieste di sicurezza e salute delle aziende ed è la chiave per organizzazioni più agili sicure accessibili e reattive grazie a tutti i dati